C'è il senso del ritorno al passato tra gli acquerelli e gli schizzi, a volte in bianco e nero e a volte a colori, esposti in Carnet de Voyage a Palazzo Lascaris, la mostra inaugurata alla Biblioteca della Regione in via Confienza 14 a Torino. Un'epoca nella quale l'arte del disegno del vivo testimoniava le bellezze dei luoghi, oggi immortalate dagli scatti di tablet, smartphone o videocamere. Il 22 febbraio e 1 marzo 150 artisti, tra professionisti provenienti da Parigi e numerose città italiane e studenti del primo liceo artistico di Torino, hanno potuto immergersi nel palazzo sede del Consiglio regionale del Piemonte. Lo hanno osservato e lo hanno immortalato su carta, proprio come si faceva una volta con i tacquini da viaggio. 132 lavori realizzati nei due giorni, quelli selezionati da una commissione di esperti, si possono ora visionare nella mostra. È il palazzo visto secondo punti di vista nuovi e inediti, quindi una iconografia anche aggiornata sullo stesso palazzo e su altri aspetti che lo compongono, quindi dall'aula consigliare, che è naturalmente l'aspetto più moderno, tecnologico, al Salone d'Onore, oppure anche le sale affrescate con le gesta di Sansone e altri spazi ancora aulici del palazzo. L'arte del carnet de voyage è una testimonianza antica che unisce immagine e narrazione e che la Fondazione Peano ha riscoperto e valorizzato anche attraverso un concorso che si svolge a Cuneo da sette anni. Il passato che ritorna e diventa tradizione. Questa mostra, come dicevo, vuole fare il punto sulla forma d'arte del carnet, che cosa significa fare il carnet de voyage nell'epoca della digitalizzazione avanzata, della fotografia, degli strumenti di duplicazione della realtà e invece stare ancora con la matita o con l'acquerello di fronte alla cosa vera e realizzarla con tempi anche lunghi, con tensione slow, lenta. Ci auguriamo che sia la prima di un'edizione che verrà ripetuta su altri palazzi delle sedi istituzionali del Piemonte. Carnet de voyage a Palazzo Lascaris propone anche lavori realizzati in altre zone del Piemonte, da Cuneo alla Valchiusella a Casale Monferrato, dal Museo Egizio alla Cappella della Sindone e alla Venaria Reale. La mostra alla Biblioteca della Regione via Confienza 14 a Torino rimarrà aperta fino al 3 maggio. Orari da lunedì a giovedì 9.12.30 a 14.30.16, il venerdì 9.12.30. L'ingresso è libero.